Molto bene ragazzi, siamo a un passo ad alternare queste stupidi CTR Perché dopo molto, comunque la scena è l'appunto con le sue CTR per sempre Quindi vediamo lì, darci la mossa Sì, è CTR, sì, ora faremo un CTR a Piloso ragazzi Questo è un po' disorientato, io ne cambio, ma è meglio così Non ce l'avrei mai, non ce l'avrei mai fatta a fare due CTR per Pilo Cari, cari, questo è molto bene Oggi ragazzi, le coppe c'è, ma non so se ce la farò stare nel limite dei 15 minuti Perché 4 piste insieme è davvero tanto E non so che dovrò spezzare in più Andiamo, va Eh, lasci, porca puttana, eccola Allora, dai, me lo fai apposta o cosa? No, 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 no Allora, un'altra lettera deve essere il primo salto e Ovviamente, ovviamente Non prende la lettera neanche a terra Allora, cos'è? Uno scherzo qui? No, scusa Contro cosa prende il sbattuto? Vabbè, lasciò fare il fatto A me proprio sta facendo il tutto per farmi perdere Allora, la R è la mia al primo salto Allora, la T so dov'è, all'ultimo salto All'ultimo quella, spero la prenda Allora, la R è la mia al primo salto Allora, l'ultima T è? L'ultima retta Allora, era l'altro All'altro, tutto che non si è rispettato Almeno cerchiamo di prendere la R Questo ci ritrova E comunque, ragazzi, le coppe Già non la città serviva Allora, non potrò restare nel limite Dei 15 minuti di salto Già 9 minuti per due piste lunghe come Pali Popolare E Arena B Allora, non si immagina Eppure quattro piste tutte insieme Cosa potrebbe essere? Si, vabbè, ma che bastardata però La Nitro Corro davanti alla R Ma scusa Ma come fai a non prenderla? Chiamila era lì perché? Ma la sfiora è niente? Ma come è possibile? Ora basta, sinceramente C'è quel creativo che ha lasciato la Nitro Davanti alla R Correndo quella volta mia Era mia Invece no Esplode contro la Nitro Che ciao ciao No, che merda Stanno volendo favoriti Un po' no Quella pezza Sì, ora se non la prenda Questo ultimo giro Ciao Devo anche arrivare qui Dopo Ultimo giro Il giro della verità Apri la R Guarda Sì, non è vero Dato che io non ci ho messo Per il giro Saprò posso passarci Per il lancio Una stella Vai Vai Bravo Crash Finalmente ti decidi a prendere la R Eh, cazzo Due giri La partita una volta Ci fa un frettino Che ha lasciato la Nitro Provo davanti alla R Cioè, poi Questo stengono Che il giocatore di genere Ma che è il computer E gesto di maniera Più o meno casuale Sì, certo Se questa non è la bastardata Lasciarmi la R davanti Lasciarmi la un belito Davanti alla R Oramai vinciamo Siamo troppo distanti Dall'avanziale Dai Perché questo CDR È tutto nostro Il penultimo giallo Ragazzi Nella parte successiva Nella parte successiva Prenderemo L'ultimo CDR giallo E anche l'ultimo CDR Vero e proprio Del gioco Questo è l'ultimo di ora Ok Bene ragazzi Ci rivediamo noi Alla prossima Con l'ultimo CDR giallo Del gioco Stazione Oxide Quindi Ciao a tutti E alla prossima